Musica Caldo torrido a Ischia Porto ma la temperatura è alta anche per commercianti ed esercenti come vedete alle nostre spalle è in corso alle 14.07 una manifestazione di piazza Abbiamo bisogno di dimostrare che abbiamo bisogno di aiuto perché l'industria turistica dell'isola di Ischia è un'industria che esprime grandi numeri riusciamo a convogliare fino a 4 milioni di turisti l'anno abbiamo bisogno di aiuto vero per arrivare a marzo del 2021 Le norme generali sono di difficile applicazione su un'isola come Ischia? Non sono sufficienti a garantire a tutte queste attività che lavorano a Ischia di superare questa crisi Abbiamo bisogno di una cosa, di un atteggiamento specifico